Oggi ho deciso di fare una pazzia Completare la modalità difficile di Granny 3 Ragazzi con l'uscita di Granny 3 sono partiti gli scleri E soprattutto le polpette della nonna L'ultima volta abbiamo giocato la modalità normale Quello era normale Un nonno con gli occhi bianchi con un fucile in mano è normale Ok Ma questo non mi basta Devo prendere esempio dal mio maestro Fattiamo la modalità difficile Vi piace la nonna con la mazza da baseball? Scrivetelo sotto nei commenti Vi voglio dire che il mio libro di ricette sta per uscire Ok non è un libro di ricette È proprio un libro Quindi preordinatelo entro il 24 giugno Su Amazonia.it E riceverete anche il poster Me l'ho messo in vista qua Mi sono risvegliato qua Dopo che qualcuno mi ha dato una botta in testa E il mio amminicciato di diventare una polpetta In realtà qua non siamo in una cella Siamo in una cella frigorifera Perché la nonna ci vuole per forza mangiare Buongiorno Questa è la modalità difficile di Granny E cosa sarà mai? Ora vediamo Allora lo scopo è quello di riempire i vasi pieni d'acqua E di metterli all'interno Di quello strano Marchingegno Ok prima porta aperta Apriamo qua Speriamo che non aprono Dobbiamo mettere un vaso qua pieno d'acqua E un altro vaso qua pieno d'acqua E poi prendere una chiave Andiamo scappiamo di qua Luigi lo so che hai fatto una brutta fine Però non farai mai come Slenderina Che io ti chiamerò Slenderina Anche se si chiama Slendri Ah porca miseria Manco il tempo Aiuto Mi sto facendo la cosa sotto Quello è pazzo Fermatelo Quello c'è in funghi Ma dai Ma non è possibile iniziare così Vabbè Non temiamo Non temiamo il nonno Anzi no Adesso faremo più alla svelta Ciò vuol dire che dobbiamo correre Quindi corro Ok ciao Luigi Stavolta non ti saluto Ciao ciao Qua Che è già aperto Già aperto Già aperto Già aperto Stiamo attenti Stiamo attenti Apriamo tutto Non è importanza Se mi vede Oh no no Ho fatto rumore Ho fatto rumore Chiudi ok Qua c'è il tetiber Chiudo Non esisto La parola magica è Dire non esisto Se non esisti Non ti trovano Apro Oh perché mi sei Juno Non esisto Io non esisto Non esisto Non esisto Non esisto Non esisto Non esisto Ragazzi o è difficile sì ma non è giusto così voi siete avvantaggiati non demordiamo anzi mordiamo esco fuori non mi avete visto ok finalmente siamo fuori prendiamo un sasso ho già ho visto la planche la planche mi serve vediamo qua cosa c'è bossoli vediamo qua cosa c'è niente però se escono in quanto in testa questo nonno e non fammi essere cattivo ok che tu c'hai i tuoi anni ma io pure c'ho i miei di esperienze con le travi qua fa che non si avvicini ma che è chiusa maledetti che prova ad aprire vabbè ma dai eccoli passi va bene non è che ci vuole dobbiamo finirlo subito mi stanno cucinando a fuoco letto la nonna è velocissima potevi andare tu a fare l'olimpia di nonna porca miseria come faccio seminarla devo seminarla devo seminarla aiuto non riesco a seminarla dammi un fucile un fucile l'ultimo giorno me lo gioco ci faceva salire aiuto slenderina vai a prenderti la non mi che non sto dormendo non sta dormendo mannaggia ok no no non dorme però abbiamo già fatto qualcosa ok forse esisto forse esisto forse esisto o per una cosa facciamo così questo lo buttiamo qua io vado sotto posso fare una cosa io dimmi che c'è la noce di cocco dimmi che c'è la noce di cocco no 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 pazzo ma che cosa ha quel nonno nel cervello le pietre i sassi del destino non ci provare una trappola uh il tronco ok oh l'ha visto l'ha visto pure quello vabbè dai ma bè non farlo non c'è bisogno di farlo non dito giuro ma che è un alligatore ma che mi guardi così nonna giuro le mangiavo le polpette e vabbè sono diventato una polpetta a posto no ce la posso fare ce la posso fare ho un tronco non ho paura di utilizzarlo io salgo devo portarlo sopra mi ha visto non so chi ma mi ha visto la nonna e io scendo cocco fiammiferi sopra fiammiferi accendo la fuoco fuoco togli uccello uccello fa mi ha visto lui mi ha visto mali 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 oh mannaggi mannaggia lui si che mi ha visto e spara non è andato non ha pure ok allora uno due tre quattro apro per sicurezza si il primo a cosa basta saliii non sale più 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 meno male che è aperto rallento non mi vedrai mai qua perché tu non sei capace sei una vecchiettina non puoi mica salire le scale na 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 yeah ok cosa abbiamo preso chiave della shed visto che è la shed eh io direi di buttarla giù sta qui botala giù perfetto dobbiamo colpire quel vaso ce la faccio sicurezza andiamo qua cocco ragazzi il cocco ho visto una bella noce di cocco e la volevo spaccare con la testa non mi sono fatto male però sono dettagli cocco si prevediamo la shed ma tutto ho trovato ragazzi tutto ho trovato questa modalità difficile noi sappiamo che la ghigliottina fa rumore quindi niente ghigliottina per ora questo ok apri teddy ok teddy questo possiamo accendere no ma anche questo il cavo pacca sta bella noce di cocco cocco bello zac la chiave delle armi oh si e mo e mo vi faccio vedere come si gioca con le armi se ti vedo ti prendo no che fai che ho fatto fuori uno fuori due oh yes uno oh ora si ora si ora vi faccio vedere io come si gioca uh chiave safety ok ebbè meno male che ho lasciato il fucile là oh uno un vaso è preso e scendi giù apriti sesamo si apriti oh ok questo mi serve mettiamolo subito vai ah mi sa che questa è una sfida tra me slendrina slenderina mia ti prego blank mettiamo blank facciamo piazza pulita ok spariamo 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 vaso 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 dove sei dai ah dobbiamo far andare via quella il cavo il cavo perfetto tutta questo cavo va se è caduto dall'altra parte ok dobbiamo andare dall'altra parte via metti cavo oh e vai manca il fusibile ragazzi però manca il fusibile manca il fusibile slendrina slenderina dammi il fusibile ringrazio più tardi ora che mi sto facendo una cosa sotto dammi il fusibile so che mi darei no niente fusibile patlo ok pato abri lancia uno due dammi dammi fusibile vai vai se è così non è nonna non è nonna io vi dico addios 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 per sempre salve scappa 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 e ciao slenderina ciao ragazzi fine io direi che questo video lo posso anche termine qua mi raccomando su amazzone.it potete trovare il mio libro preordinatelo ai 324 per ricevere il mega bellissimo poster e dal 24 di tutto nel benedetto ed iscrivetevi al canale se lo avete ancora fatto c'è un sacco di pollice di su quali posto non esiste è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video eee ciao ciao